La famosa star di Juno, ossia Lampage, avrebbe fatto di recente outing come transgender. Vi ricordo che è famosa per un bello academy ma anche per Juno avrebbe detto che due ore in poi si farà chiamare Elliot, uscirà come pronomi he, day, lui e loro. L'attrice candidata agli Oscar del 2008 ha ben 23 anni di età, 6 anni fa vi ha annunciato di essere omosessuale. In particolare le sue parole sarebbero, sento una gratitudine profonda per tutte le persone incredibili che mi hanno sostenuto in questo viaggio, non riesco a impedirmene quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mia vita come un autentico fine a me stesso. Sono ispirato da molte persone appartenenti alla comunità trans, grazie per il vostro coraggio, la vostra gerosità, il vostro lavoro incessante che portate avanti ogni giorno, per rendere questo mondo un luogo più sicuro e compassuevole. Adesso tutto il mio supporto possibile continuo a lottare per una società più amorevole ed anche più equa. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, un saluto caro da Leandro, narratore italiano.